Stazione di servizio, Six Petroleum di Agnello De Marinis, in via Santa Maria delle Grazie 140, Nocera Superiore. Nonostante i reiterati tentativi di sensibilizzazione, a Cava dei Tirreni esistono ancora incivili, che incuranti dell'igiene e anche dell'immagine cittadina, continuano ad abbandonare i rifiuti in maniera sconsiderata, senza tenere nel dovuto conto il calendario di conferimento, né tantomeno la necessità di seguire le opportune procedure per depositare rifiuti ingombranti o speciali. Così capita che in via Rosario Senatore, da diversi giorni, un gabinetto attiri le attenzioni delle numerose persone che transitano per la zona. O anche che un cumulo di rifiuti ingombranti, se abbandonato senza alcuno scrupolo, in via Luigi Ferrara della frazione Pregiato. E continuano così ad apparire sui social le immagini contrassegnate dall'hashtag Io mi rifiuto, relativo alla campagna di sensibilizzazione avviata ormai da tempo dalla Metellia Servizi, nella speranza di fare breccia anche nei cuori più duri. Intanto, sempre sul fronte rifiuti, da palazzo di città, vanno sapere che si lavora per estendere il porta a porta spinto, al momento attuato a Viale Marconi e Traverse, in altre zone a ridosso del centro cittadino.